ci stiamo a terra vai sì ho chiuso la porta è andato ad andare a stare l'altro eh? ok si confermata è Max col suo FAMAS c'è gente sopra di noi sono sempre gli stessi lassù Cassi in arrivo nuova zona sicura contrassegnata sono gli stessi una terra una terra ma non puoi attenzione bombardamento di precisione alleato in arrivo stanno girando a sinistra non tantissimo bravo 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 no ok ciao che goduria davanti a noi invitato uno un attimo un attimo che sto ricercando in avvicinamento dove? alla zona sicura avanzo di qua niente dimenticato no cazzo qua cazzo qua lascia stare eccolo dice che spera la testa che gli faccio sempre ne mancano dieci ne mancano dieci insisti come non l'ho hitato gas in movimento nuova zona sicura individuata tutti eh spero che quelli sopra non ci vedino arriva il gas tempo scaduto aggiungete la nuova sali che sta di cazzo non riesco a salire raga uccido ciao raga ciao raga vittorio di improbabile si si venimi a prendere puttana dai gemito gang stamp gamberone se l'è poppato subito ciao raga ciao raga ciao raga